AFA domani bollino rosso per Pesaro e Ancona Esame di maturità il tema degli studenti pesaresi Il CT di volley Davide Mazzanti riceve il sigillo d'Ateneo Torrente Genica scambiato per discarica abusiva Ufficiale Repesia torna alla VL con contratto triennale Una buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Pubblico del canale 80 Riecco il nostro telegiornale, il nostro appuntamento fisso della sera Con l'informazione di Rossini News Telegiornale di mercoledì 22 giugno Una data che coincide con una ascesa di caldo africano sulla nostra regione Secondo la protezione civile infatti domani giovedì 23 giugno Nelle Marche si registrerà un nuovo picco di caldo Con due città da bollino rosso, le due città più popolose Ancona e Pesaro Che dovrebbero superare i 35 gradi Già da giorni le marche sono state identificate con il bollino arancione Il bollino rosso della protezione civile subentra invece in caso di ondate di calore massimo Come quelle previste domani che seguono a più di tre giorni consecutive Di condizioni meteorologiche a rischio per la salute Salute soprattutto di anziani e di categorie fragili Ed è un caldo che non è di grande aiuto per concentrarsi sui libri Uno scoglio in più per gli oltre 13.000 studenti marchigiani Che oggi hanno cominciato ad affrontare la prima prova dell'esame di Stato Con il tradizionale tema di italiano Una mattinata in cui abbiamo fatto un giro al campus scolastico di Pesaro Per vedere le prime reazioni alle tracce dei maturandi pesaresi Reazioni che sono state raccolte al microfono della nostra Letizia Moretti Dopo due anni aggrovigliati dalle limitazioni della pandemia Anche l'esame di maturità è tornato ad un'apparvenza di normalità e tradizione A cominciare dal tema di italiano che questa mattina ha fatto suonare la campanella Sulla prima prova d'esame di Stato per 13.700 maturandi marchigiani Il toto tracce della vigilia ha proposto argomenti papabili come iperconnessione Cambiamenti climatici e pandemia che hanno fatto capolino fra gli iscritti Al pari del ritorno di leggi razziali e shoah Temi fra i quali è spuntata anche la musicofilia E le analisi del testo che hanno riguardato Verga e Pascoli Ecco preferenze e sensazioni di alcuni studenti pesaresi raccolte all'uscita dal campus Ho scelto l'ultima proposta, la proposta C2 Che tratta dell'iperconnessione come tema principale dei social Ho scelto la proposta B3 ed era quello basato sull'inquinamento Il B2, tipologia B2, sulla musica C2, era una traccia sulle cose del web solide che mettono C'era sempre una a ogni tema, ho deciso di fare quella Ho scelto il tema C2 che era sull'iperconnessione e sui rischi dei social Le tracce erano prevedibili secondo te? Allora, me ne aspettavo una su comunque questione digitale Me ne aspettavo Poi guardando anche video online così Mi aspettavo un Pascoli E per il resto no, le altre no Tipo sulla musica non me la sarei mai aspettato Sì, secondo me erano prevedibili Soprattutto quella di Verga e quella sul Covid Dato che era l'anniversario di Verga E sul Covid vediamo da due anni appunto di pandemia Emozionato per questo primo giorno? Allora, non emozionato però sono abbastanza rilassato Perché alla fine è un semplice esame È un fine di un percorso che si può fare Quindi sono abbastanza tranquillo Come ho detto gli altri ragazzi no Perché alla fine del tema Cioè in cinque anni io non ho mai stato per un tema Perché è una cosa molto tranquilla Cioè vai, è una cosa molto di creatività Per il tema ci si prepara o è stata una vigilia rilassata? Beh, no, tranquillissimo proprio A casa, a dormire presto Si fa magari Si fa in giro Sono andato a portare fuori il cane Ieri alla fine E per 13.000 marchigiani che oggi hanno cominciato il loro percorso verso il diploma C'è stato anche un marottese che sempre nella giornata di oggi Ha invece ricevuto un riconoscimento riservato a pochissimi Parliamo di Davide Mazzanti che è il commissario tecnico della nazionale di pallavolo Campione d'Europa Mazzanti che oggi è stato insignito del sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino Amiche amici di Rossini TV oggi siamo ad Urbino per raccontarvi del conferimento del sigillo d'Ateneo al CT della nazionale femminile di volley Davide Mazzanti Andiamo insieme a conoscere i protagonisti e andiamo insieme a farvi ascoltare le loro parole Ci sono tante emozioni che si incrociano perché c'è la mia storia Però poi c'è anche la storia di tutte le persone che hanno ricevuto questo riconoscimento E quando leggo le persone che l'hanno ricevuto prima di me Pensare che ho questa opportunità e questo riconoscimento Mi riempio di orgoglio e di riconoscenza verso chi ha pensato a me come allenatore E mi sento quasi miste emozioni e imbarazzo nell'entrare in questa elite Di persone riconosciute per questo sigillo Grande affermazioni nel campo sportivo sia come CT ma anche come atleta E soprattutto con le squadre che ha allenato Quanto è trasferibile di quello che si impara in campo sportivo nella vita quotidiana? Ma credo che nella mia esperienza all'inizio ho fatto sempre un po' fatica A trasformare quelli che erano i valori che avevo imparato sulla mia pelle Durante l'adolescenza soprattutto nel periodo quando ero nel gruppo di azione cattolica di Marotta Poi invece ho visto che è tutto legato dalla stessa idea che alla fine lo sport o la vita ti insegna a essere perseverante E essere tosto, nemmeno ottimista E credo che nella vita e nello sport questo filo conduttore alla fine sia unico Ci fa molto piacere avere Mazzanti perché è un nostro laureato Ed è anche un uomo del nostro territorio Quindi con questo sigillo vogliamo riconoscergli i risultati che ha raggiunto E appunto dare un premio anche da chi partendo dal nostro ateneo da territorio È arrivato a questi successi internazionali Come il campionato europeo vinto dalla squadra femminile di pallavolo Tra i criteri probabilmente anche quello appunto di andare a trovare studenti, ex studenti Che si sono distinti in campo internazionale, in campo mondiale come appunto Davide Mazzanti Altri criteri per queste attribuzioni e queste assegnazioni del sigillo d'ateneo Tanto per farli capire un po' ai nostri telespettatori Non c'è un criterio preciso Vengono sia da sollecitazioni di colleghi come in questo caso Dai colleghi della scuola di scienze motorie Che appunto è l'evoluzione del vecchio Isef Nel quale si è diplomato Mazzanti Arrivano delle segnalazioni, le valutiamo E quindi a seconda del profilo ovviamente le accettiamo E questa era soltanto una anticipazione della cerimonia del sigillo d'ateneo Consegnata conferita a Davide Mazzanti Che potrete a proposire in uno speciale che Rossini TV Trasmetterà venerdì 24 giugno alle ore 21 Speciale come avete potuto vedere realizzato dal nostro Paolo Pagnini Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni Che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero Whatsapp dedicato 370-366-7210 In questo periodo sono state ripetute le segnalazioni Proprio riguardanti il torrente genica Sempre più scambiato per discarica abusiva Il servizio Via Boiardo, via Scarpellini, via Poliziano e via Fratti Quattro vie legate da un comune denominatore Dai punti che si affacciano sul torrente genica Questo è lo scenario che si può vedere Con visibile sporcizza e mancata manutenzione in alcune parti dell'area Tra il grigio del cemento e la trasparenza dell'acqua A spiccare è il colore verde di un'erba rigogliosa Che molto probabilmente non si trova nel posto adatto Una situazione che ci è stata denunciata in questi giorni Da diversi cittadini residenti in queste vie Esausti di assistere quotidianamente ad uno scenario del genere Lamentando una mancata cura e custodia del torrente pesarese Secondo alcuni di loro La sporcizza che popola al genica È frutto di una discarica abusiva del verde Da parte di alcuni cittadini Che a seguito di sfalci d'erba Hanno ignorato le conseguenze Gettando gli scarti lungo il torrente Erbacce ma anche terra e muschio Che provocando un ristagno dell'acqua È diventato un naturale deposito di zanzare Quelle zanzare che anche il comune di Pesaro In questo periodo sta cercando di contrastare Distribuendo ai cittadini delle compresse antilarvali Da utilizzare dove si trovano punti di acqua stagnante Ma non finisce qui Perché dal ponte che collega via Scarpellini Al parco comunale Oltre a sprazzi di giungla Si può notare la presenza di un carrello di un supermercato Probabilmente gettato e lasciato al centro del canale Una scarsa manutenzione e una grave inciviltà Che genera diverse problematiche E che il comune di Pesaro A detta dei cittadini Deve al più presto intervenire E vi segnaliamo anche una tragedia consumatasi Questa mattina nella centralissima Viale Fiume di Pesaro Dove una donna si sarebbe tolta la vita Gettandosi dal quarto piano di un palazzo Tra lo sgomento dei tanti passanti Che hanno visto il corpo riverso a terra Poi coperto da un telo bianco Dopo l'intervento di Polizia E118 Ed ora parliamo invece di valorizzazione turistica Delle aree interne E in particolare di quelle dei comuni di Lunano Belforte, Alisauro e Sasso Corvaro Auditore Che si uniscono nel progetto dal titolo Excover Che è stato presentato presso la provincia di Pesaro Urbino Un ideale ponte sul mare Adriatico Che dalla Croazia confluisce nel Monte Feltro Portando alla scoperta di borghi Quali Lunano, Berforte, Alisauro e Sasso Corvaro Auditore E questo l'obiettivo di Excover Progetto europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia Presentato in provincia dal Gal Monte Feltro Un ente impegnato nello sviluppo dell'area interna Che si declina dalla crescita rurale A quella di valorizzazione turistica All'insegna di un binomio natura-cultura Il Gal gestisce fondi europei Del piano di sviluppo rurale Sono fondi dell'agricoltura Destinati allo sviluppo rurale dei territori Noi, il Gal Monte Feltro È il Gal di riferimento I 30 comuni dell'entroterra Diciamo, è una specie di provincia dell'entroterra E il turismo È un segmento Diciamo, un settore Diciamo, importante Che noi cerchiamo di, come dire Sviluppare anche realizzando progetti come questi Un progetto molto interessante Che collega le due sponde Dell'Adriatico Quella pesarese A quella d'Almata Che sono state in fin dei conti Collegate anche nel corso Nel corso dei secoli Oggi può esserci una Combinazione di turismo Favoribile Tra la Croazia e la provincia di Pesaro Per un turismo verde Sostenibile Per un turismo ambientale E con la bellezza di riuscire ad attraversare Ad attraversare anche l'Adriatico Io penso e credo Che sia una Una possibilità enorme Sia per noi Che per la Croazia Per uno scambio Non solo turistico Ma anche culturale Gli itinerari sono stati sviluppati Attorno alla visita di monumenti e castelli Pievi e chiese Dalla Rocca Ubaldinesca E la reliquia di San Valentino A Sasso Corvaro Al museo della linea gotica Di Casinina Al castello del Barone di Beaufort A Belfort a Lisauro Parallelamente Anche le possibilità Di una vacanza Trasport e relax Dal trekking All'equitazione Fino a kayak e canoa Grazie al lago di Mercatale Per l'amministrazione Di Belfort a Lisauro È una opportunità unica Di far conoscere Le proprie bellezze Come tutti i comuni Del Monte Feltro È un piccolo diamante grezzo Da scoprire E da valorizzare Viene valorizzato E scoperto Attraverso degli strumenti Grazie a questo Grazie al progetto Escover All'apporto del GAL Monte Feltro Pensiamo di riuscire A fare questo E quindi di riscoprire Tutte quelle nostre Bellezze locali Tipiche del nostro paesaggio La caletta Per la riabilitazione Delle tartarughe marine Di Pesaro Apre i battenti Per l'estate 2022 Con un appuntamento Che è stato programmato Sabato 25 giugno Alle ore 10 Nel tratto di Baia Flaminia Protetto dalle prime Falesie Del parco San Bartolo È infatti prevista La messa in acqua Di un esemplare Di caretta caretta Che i veterinari E i biologi Della fondazione Cetacea Hanno riportato in salute Dopo due mesi Di riabilitazione Nel centro di Riccione A seguito Di una cattura Accidentale Nelle reti Di un peschereccio Per le quali La tartaruga Aveva rischiato L'asfissia E rimaniamo In Baia Flaminia Perché dopo Due anni di stop A causa del covid Torna l'appuntamento Rugbistico Dell'estate Pesarese Perché da venerdì A domenica È previsto Il ventunesimo Torneo Di beach Mini rugby Che quest'anno Sarà affiancato Anche dalla tappa Del trofeo italiano Di beach rugby Organizzato Dalla federazione È prevista La partecipazione Di 17 società 52 squadre E circa 550 ragazzi Il 25 E 26 Di giugno Ferminiano Ospita Popoli In festa Quarta edizione Del festival Che celebra L'integrazione Dei popoli E delle culture E delle pianeta All'insegna Di incontri Che porteranno A Ferminiano Sette gruppi Nativi diversi Delle pianeta Dall'Albania Al Benin Passando per Marocco Nigeria Senegal Pakistan E Ucraina Sabato 25 giugno A Gradara Uno dei borghi Più belli d'Italia Si terrà La notte romantica 2022 Un'occasione speciale Per celebrare l'amore Con un emozionante Spettacolo Di parole e musica Dal titolo La verità Negli occhi Dell'amore Di Roberta Arduini Con il quartetto Oasi Formato dalla stessa Roberta Arduini Pari De Battistoni Jacopo Mariotti E Luca Forlani Ed è tutto pronto Per la quarta edizione Di Sinfoni Pop Festival 5 gli appuntamenti in programma Dalle 28 giugno Al 2 di agosto Una rassegna che quest'anno Unirà musica sinfonica E pop Con omaggi Tra gli altri Anche a Whitney Houston U2 e Michael Jackson Cinque serate La regione di Fano Regione Marche Regione Marche Ministero per la cultura E un'accordata di sponsor Molto importanti La banca di credito cooperativo Di Fano E Nereco Exan Italia Saranno 5 serate magiche Per la città di Fano Che si svilupperanno Dal 28 giugno Fino al 2 agosto La prima e l'ultima Saranno all'ex chiesa Di San Francesco Luogo tanto amato Dai fanesi Ma anche dai turisti Per la bellezza La particolarità E per noi musicisti È un luogo amato Perché è anche Una bellissima acustica In questo contesto Abbiamo messo Due concerti Di musica classica Che però riguarderanno I compositori popular Cioè quelli più famosi Dei loro periodi Haydn Mozart E Rossini Spostandoci a Rocca ma testiana Nei primi tre Sabato di luglio Troveremo tre tributi Il primo a Whitney Houston Il secondo agli U2 E il terzo A Michael Jackson Grandi artisti Calcheranno il palco Assieme all'orchestra Sinfonica Rossini Su tutti Belinda Davids Cover Straordinaria di Whitney Houston Riconosciuta in tutto il mondo Che siamo riusciti Proprio per la collaborazione Con un'altra orchestra Delle Puglie Ad ospitare In questa sua tournée italiana Perché appunto Non era così semplice Incastrare Le sue attività E le sue esigenze Poi per gli U2 Avremo la nostra Clarissa Vicky Insieme a Filippo Malatesta E per Jackson Di nuovo Clarissa Vicky Però questa volta Accompagnata da Mattia Sciascia Gli arrangiamenti Di questi cross sound Che permettono di fastare Sullo stesso palco Degli strumenti classici E degli strumenti moderni Sono di Roberto Molinelli Per il progetto Houston E Jackson E del nostro primo trombone Carlo Piermartire Per il progetto Degli U2 Cinque appuntamenti Con la grande musica Dunque Ma contraddistinti Anche da un certo impegno sociale Con un occhio di riguardo Verso l'attualità Si aprirà la stagione Con Federico Sant'Angelo Che è un ragazzo Diversamente abile Con una malattia rarissima Molto simile all'autismo Che però ha trovato Nella tastiera La sua via di fuga Possiamo dire così E tant'è vero Che studia il conservatorio Di Pescara E quindi inaugurerà Proprio tutto Il Symphony Pop Festival Poi ci sarà Un ragionamento Un racconto Su musica e spiritualità Nel concerto Dedicato agli U2 Perché gli U2 Sono stati una grandissima Band rock Ma che hanno trattato Anche molti temi Di spiritualità E infine Il progetto di Jackson Sarà rivisitato Stando attenti A quei temi Che lo stesso Jackson Trattò Forse tra i primi Cioè La salvaguardia della terra Con Heart Song Il The World Salviamo il mondo E ovviamente Tutta la sua attività In beneficenza Per i bambini Capace anche Di toccare grandi temi Symphony Pop Festival È una rassegna innovativa Nello spirito Ma oramai Una certezza Nel cartellone Dell'estate fanese Sì è una conferma Ormai siamo alla quarta edizione C'è questa cosa bella Questo incontro Tra il classico E il pop Una cosa inusuale Ma che è stata sperimentata E molto apprezzata Dalla gente Quindi Questo modo Anche Di sperimentare E d'altronde Gli artisti Sono sempre dei creativi E questa è stata la sfida E direi Una sfida raccolta Quest'anno C'è anche un'estensione Dei luoghi La città Offre fortunatamente Location Che oltre A trasmettere L'offerta culturale Che arriva in quel momento Trasmettono anche Un'emozione Che rendono il tutto Ancora più entusiasmante E poi quest'anno C'è un sapore Nuovo Particolare Un po' Il ritorno alla normalità Quindi lo stiamo vedendo Anche sotto tanti altri aspetti Anche dagli arrivi Insomma C'è un ritrovato entusiasmo E da Fano A Gabice Altro festival Altra musica Quella di Disco Diva Pronta a far ballare Con la sua ottava edizione Gabice Monte Come tutti gli anni Cambierà completamente Veste Quest'anno Più che mai Il festival Giunto all'ottava edizione Prenderà veramente Un colore Incredibile E avremo degli artisti Che il nostro festival Può tranquillamente Equipararsi A dei festival Europei Internazionali Vi racconto Molto brevemente Quelle che saranno Le chicche Dal 24 al 26 di giugno Partiamo venerdì E ovviamente Abbiamo un DJ set Di Napoli segreta Quindi come l'anno scorso Apriamo il nostro festival Anche a un pubblico Più giovane A seguire Avremo il live Di Pino D'Angio Tutti lo ricorderete Che è con un suo Brano cult degli anni 70 Per poi finire La serata Veramente con Un ospite Prestigiosissimo Pensate che lui Fa solo le più grandi Piazze europee del mondo E parliamo di Cerrone Il sabato Partiremo con Un altro DJ set Molto importante Curato ovviamente Da Italian New Wave Che è il nostro partner Dell'anno scorso Oltre ovviamente Che Gucci San Pellegrino Che è l'antre di quest'anno E Riviera Banca Per poi arrivare Al grande live Strepitoso Degli Imagination Quindi tantissimi successi Legati agli inizi Degli anni 80 Just an Illusion E tanti altri Che vedremo qui Ripercorrere proprio Nel palco Di Piazza Valbruna E poi alla fine Vedremo Un grande DJ set Che ovviamente Lo aspettiamo da anni E parliamo di Nicky Siano Del DJ Dello studio 54 Di New York Arriviamo la domenica Che non sarà da meno Quest'anno Perché comunque Partiamo con un discorso Di un lungo aperitivo Perché la domenica Ovviamente le persone Vogliono più di Di questo Di venire su Dalla spiaggia Di stare molto easy Eccetera Per poi arrivare Partiremo con Diciamo Un momento culturale Dove racconteremo La storia Della disco music Attraverso la moda I DJ Che hanno fatto La storia del territorio Passeremo Dalla bella Degli angeli Allo studio 54 Quindi sarà veramente Una cosa Molto carina Poi partiranno I DJ set Con Gino Grasso Ovviamente lui Assolutamente Tutto in vinile Dopodiché Avremo Il live Di Dissi La Rue Un altro ospite Internazionale Che viene da New York Ed infine Una cosa inedita Avremo un DJ set Di Ralf Con una selezione Dedicata Alla disco music Lo avremo proprio qui In piazza Valbruna Quindi ci aspettiamo Veramente un fiume Di giovani E poi avremo Un DJ Che non posso annunciare Che è un TBA Ma vi assicuro Veramente Che è un ospite Internazionale Dopo due anni Di edizioni Con dei limiti L'avevamo battezzata Disco Diva Limited Edition Perché avevamo Delle limitazioni Importanti Dovute Alle restrizioni Da covid Quest'anno Ci sono tutti I presupposti Per ricominciare A divertirci Quindi saranno tre serate All'insegna Del grande spettacolo Grandi artisti Grandi ospiti 24, 25 e 26 di giugno Naturalmente vi aspettiamo numerosi Perché vogliamo riempire Questa piazza E ridare un po' di felicità Di serenità Con Sotto diciamo Dal punto di vista Della musica Delle note Delle note musicali Che scalderanno Le serate La notizia Era nell'area Da giorni E da questo pomeriggio È diventata Ufficiale La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Comunica che Yasmin Repes È il nuovo Allenatore Della VL Il coach croata Sottoscritto Un contratto Triennale A dimostrazione Della reciproca Volontà Di riprendere Il percorso Intrappreso Nella stagione 2020-2021 E di poter Svolgere un buon Lavoro a Pesaro Confermando La visione Legata Alla crescita Della società Anche la famiglia Beretta Attraverso un comunicato Salutato Con soddisfazione Il ritorno Di Repesia Esprimendo Entusiasmo Per averlo Di nuovo Sulla panchina Biancorossa Dal basket Al calcio Cinque Ultimissimi Biglietti In vendita Perché domani Si annuncia Il tutto esaurito Al palafiera Per la finale Scudetto Dell'Ital Service Pesaro Che domani Vedrà la squadra Di coach Colini Affrontare La fel di Eboli In gara 2 Dell'atto finale Di questo campionato L'Ital Service Parte dal gap Della sfortunata Gara 1 Persa in campagna Ai rigori E domani Alle 20.30 Dovrà vincere Per allungare la serie E portarla All'eventuale bella Prevista sabato sera Sempre al palafiera E si conclude qui Questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Ma continuano Gli appuntamenti Di questa sera Su Rossini TV A cominciare Dalle 21.20 Quando trasmetteremo Il nostro speciale Realizzato in occasione Della mostra artistica Urbino In acquerello L'utopia del nostro pianeta Appuntamento dunque Questa sera Alle 21.20 A seguire Alle 22.30 Per chi si fosse perso L'appuntamento Fisso di ogni martedì Su Rossini TV Con quale a zampa Potrà rivedere Il nostro format Realizzato Con Giacomo Lucchetti E Antonio Astuti Dedicato Ai nostri amici A quattro zampe Così come altre repliche Quelle previste Giovedì Sabato E domenica Come potete vedere Nella nostra grafica E poi L'informazione Su Rossini TV Torna puntuale Domattina In diretta Alle 7.20 Con la nostra Rassegna stampa Buongiorno Rossini Che per questa Occasione del giovedì Sarà condotta Dal nostro Antonio Astuti Come sempre Poi vi ricordiamo L'app di Rossini TV Un strumento Utile per avere A portata Di smartphone La possibilità Di interagire Con Rossini TV Consultando notizie Consultando il palinsesto O anche per inviare Segnalazioni Alla redazione Ed è davvero tutto Per questa sera Vi ringraziamo Per averci seguito E vi auguriamo Una buona serata In compagnia Dei nostri programmi